Hi people, bella gente, qui è il Lord Spider che parla, siamo di nuovo qui in un nuovo video sul Limbo oggi cerchiamo di portare di nuovo avanti sulla questione della scatola oggi volevo tentare visto che non era stato possibile l'ultima volta ok, funzionato subito piccolo consiglio che mi stavano da un mio amico un mio amico piccolo allora non potendo andare di qua ok ovviamente sto coso vediamo un po' vediamo, vediamo, vediamo vediamo vedete, per 6 però uh dopo che incalcio il marshmallow no oh ok il livello dell'acqua stava aumentando perfetto grazie 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 mille allora se andiamo qui sopra guarda che succede ok siamo ancora integri piove comunque come sempre si scende no 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 colpa mia colpa mia come sempre ci arriva proprio ho preso una panzata di quello assurdo proprio proprio la grande l'ha presa quella panzata boom si vola ok uh 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 mamma mia si l'assassin crete no fatemi sapere se pure le leplicazioni una serie dell'assassin crete mmm ok insomma mi sta dicendo che è arrivata ok perfetto ah uiiiiiii ok quindi ritroviamo l'attricità e ritorniamo su va bene giusto questa bellissima questo bellissimo hotel ovviamente schifo ok 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 questa tia ha fatto la fine della pixar ha fatto la stessa fine ha fatto la stessa fine ok a quanto pare siamo riusciti a salvarci da quella freccia che paradossale però vabbè si va per i tetti ok caro qui adesso tu corri tu adesso corri perché qui qui non si sa mai non si sa mai trappolone eh eh oh non mi dire ok mi sono lasciato troppo andare letteralmente ok ok andiamo a sinistra perché perché ci piace prendere i vasi in testa oh no non un'altra volta ok non un'altra volta ok allora prima a sinistra e poi destra e poi destra e la luce dire no grazie e si tornerà indietro molto scontato veramente molto scontato ormai troppo scontato però vabbè come ho fatto l'abitudine quindi non è nulla di che oh wait wow e questa questa è tosta avventiamo avventiamo ok perfetto tutto secondo i piani ecco sali su ti prego mamma ma e mo se dobbiamo fare a strada al contrario quello che temevo quello che veramente temevo oh ok ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo finalmente fatta ma comunque tutto tutta fisica qui a quanto pare ok fatto pure questo perfetto perfetto wow non penso di occuparmi di fisica oggi fare un gameplay sulla fisica a quanto pare però oddio c'è un altro please quindi devo andare lì bene 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 Sì Mi ero scordato della cassa Ah, le magie di video giochi Ok Ok, fatto Questo è un po' un problema Ok, vediamo un po' di uscire da questa idea Devo in qualche modo fare qualcosa Partiamo dal presupposto che così non posso Tu Fermo qui No, devo tirare questo qui Aspetta Ecco a che serviva la maniglia Ah, finalmente C'è il contrapeso Eh, che cavolo E non potevo bloccarmi così, no? Ah, guarda, più o meno arriva qui Ok E iniziamo a ridondolarci Booyah Ok Ehm, no Dov'arriva? Ah, proprio mi tralcia Muoio Mamma mia Che skill Porco judo Uh Comunque Secondo colpo Non bad Non bad Non bad Non bad, veramente Non voglio minimamente Non voglio minimamente sapere cosa era Dimmi Non cade Ti prego Meno male Cosa schifo è quel coso? Ah 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 E io come ti ammazza a te E io come ti ammazza a te Innaggia la misericoccia Ce l'ho quasi Ok Piano 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 Mi ricorda Domenica Papà Piccolo Passo Per noi Un grande Passo Per il taxi Maledizione Ok però Si triggera lì Quindi Dobbiamo saltare Addosso Piano 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 Sì Brava, brava, portami su, portami su Ok, non così su Ti stacco la gamba, ti stacco Con questa luce celestiale Vi direi di vederci una prossima puntata Sempre qui con voi, il loro spider che parla Bella a tutti Ciao ciao Ciao